La palla resta lì, dai e vai, e Guarracino la butta fuori, si accendono i riflettori, ma si accende la vittoria della Salernitana che espugna il Bisceglia, la vittoria della disperazione in undici contro nove. La Salernitana è riuscita ad espugnare il Bisceglia grazie al gol di Francesco Montervino al trentanovesimo del primo tempo, poi doppia espulsione, tanto carattere, tanta grinta, tanto sudore e tutti a casa con i tre punti. La Salernitana sale sull'ottovolante, il passo della capolista, forza e onore, dal Bisceglia è tutto, Salernitana che espugna il campo della Versa Normana per uno a zero, grazie al gol del capitano Francesco Montervino. Ritorniamo agli studio anche per dare un attimo di pausa alle corde vocali di Eugenio Marotta, che chiaramente posso immaginare una situazione oggettivamente difficile, aver riportato a casa una vittoria che dal punto di vista della classifica vuol significare poco, perché la Salernitana, anche senza la vittoria quest'oggi, sarebbe stata promossa in prima divisione, sarà promossa in prima divisione, però le modalità, il modo, la circostanza, doppia inferiorità numerica, di cui si spiega anche la grande esultanza con la quale i calciatori della Salernitana stanno facendo festa sotto la curva. In fondo è l'ottava vittoria consecutiva, vantaggio siderale sulle altre, però è bello aver vinto in questo modo.